Ben ritrovati negli studi di Calabria News 24, questo è il nostro consueto appuntamento e interviste. In questo spazio, ospite abbiamo Luciana Loprete, Presidente Comitato Regionale dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Benvenuta Luciana. Salve. Con lei affrontiamo quella che è il mondo appunto dei non vedenti e degli ipovedenti con una notizia, una bella notizia possiamo dire, vero Luciana? Perché nei giorni scorsi nella sala oro della cittadella regionale si è tenuto a battesimo quella che è la presentazione della legge appunto per lo sviluppo di servizi in favore delle persone cieche e pluriminorate. Una legge fortemente venuta dalla IAP e dalla UIC, dalla Unione Italiana Cieca e i povedenti, che ha trovato nel consigliere regionale Michelangelo Mirabelli il suo firmatario. Approvata a maggio dello scorso, di questo anno, è riuscita a novembre ad entrare nel vivo proprio grazie anche all'impegno di spesa da parte della Regione Calabria di 300 mila euro. Luciana, un obiettivo raggiunto, tanto lavoro, un iter burocratico amministrativo lunghissimo, ma che alla fine ha raggiunto appunto il suo obiettivo? Sì, io direi che possiamo ritenerci soddisfatti e sereni perché da oggi si può dare qualcosa in più a una categoria molto più fragile, ad una categoria che ha il diritto di ritrovare la dignità dell'essere persona a di là della condizione fisica o della condizione con pluridisabilità. Quindi io vorrei solo dire che la Regione Calabria in questi quattro anni e mezzo è riuscita con molte difficoltà a dare un senso a questo nostro progetto. Questo progetto che comunque è rivolto totalmente a dare sostegno, non dovrebbe sostituire le istituzioni, ma dovrebbe andare a colmare quel vuoto che lasciano le istituzioni nel garantire assistenza e formazione e sostegno sia alle famiglie sia ai soggetti con pluridisabilità. Infatti la legge non solo colma con vuoto normativo regionale, ma addirittura si attesta come prima in Italia, anche questa è una nota di merito, che va a sostituire quella famosa legge della 284 del 97. Sì, in effetti va a sostituire quella legge, ma no che in Calabria ne avessimo mai potuto fruire, visto le vicissitudini, i cambi repentini delle legislature della Giunta regionale. Anche questo non ci ha permesso di poter utilizzare quei fondi che per metà erano dedicati alla prevenzione e alla riabilitazione visiva, per me e per l'altra metà dovevano essere utilizzati per l'assistenza ai pluriminorati e garantire a loro una formazione anche lavorativa, ma soprattutto quella di riempire la loro vita quotidiana di qualità. Con quelle vicissitudini non si riusciva mai a reperire questi fondi, non so quanto poi il Ministero abbia ristretto, perché dovevano essere mandate le relazioni conclusive di quanto doveva essere fatto e di anno in anno andavano sempre a deperire questi fondi. Finché poi è rimasto soltanto poca cosa solo sulla prevenzione e la riabilitazione visiva. Sì, tra l'altro poi diciamo che la 284 è stata assorbita anche dagli antilocali, quindi dai comuni, quindi la legge in qualche modo, questa legge regionale, la 17, aiuta anche appunto i comuni. È composta di 5 articoli appunto dove mette in evidenza sostegno, formazione, sostegno alle famiglie, formazione nelle scuole, quindi sono passaggi importanti, vero Luciana, perché puntano sulla qualità della vita dei non vedenti, degli ipovedenti, partendo proprio dai bambini, perché è importante anche che nella scuola abbiano dei formatori, abbiano comunque delle persone ben formate alla loro difficoltà. Sì, perché già avere un deficit visivo comporta delle difficoltà se non si ha dall'altra parte una competenza che sappia affrontare la cecità o l'ipovisione, figuriamoci poi dove ci sono soggetti e ragazzini pluriminorati che magari diventano anche motivo di disturbo e di fastidio nelle classi, quindi a maggior ragione ci vuole personale formato, con competenza che sappia potenziare quello che c'è nella persona con pluridisabilità, ma soprattutto anche, diciamo, presso il domicilio, diamo anche servizi presso il domicilio, servizi poscolastici, quindi i ragazzi possono sbizzarrirsi attraverso laboratori, attraverso iniziative varie, quindi teatro, coro, attività sportive, con l'accortezza e la professionalità che a loro è riservata. Lucera, in chiusura, tu ormai difendi i diritti e tuteli appunto i diritti degli non vedenti, ma non solo, di tutte quelle che sono le classi svantaggiate, vieni definita quasi il faro nella notte per tanti e tra l'altro la tua associazione è anche presente in situazioni al limite, come quella dei carceri, quindi questo è un ennesimo tassello che si aggiunge ad un percorso di quotidianità che voi fate. Diciamo che ci piace capire la nostra dimensione, poi partendo da questo riuscire anche a dare agli altri, non solo prendere, quindi il poter creare in sinergia con altre associazioni o con altre realtà tante attività a noi riempie di gioia e poi ci soddisfa, perché per esempio anche questa attività in carcere noi andiamo, portiamo un messaggio educativo attraverso anche l'esibizione del nostro coro e nel coro ne fanno parte soggetti anche pluriminorati, che piace molto avere l'impegno, sentirsi importanti, quindi condividere anche con i detenuti queste barriere, anche se per noi sono perenni perché non l'abbiamo scelto noi, facciamo capire loro che comunque hanno sempre una possibilità in più, quindi al di là del crimine che hanno commesso, dalla difficoltà che hanno avuto, hanno sempre una possibilità e fuori c'è sempre un mondo che li asperta, quindi cerchiamo di non alleviare e non inasprire la pena che magari ho la detenzione nel carcere, quindi andiamo volentieri a trovarli ogni anno, portiamo il messaggio di auguri di Natale, due anni fa per esempio abbiamo anche portato uno spettacolo proprio il 25 novembre sulla violenza, sulla giornata, abbiamo festeggiato in carcere la giornata internazionale della violenza delle donne e devo dire che siamo molto stimate, molto apprezzate anche da loro e lì capisci che al di là di tutto ci sono sempre anche delle persone che vanno comunque rispettate. Umane, c'è l'umanità, certo. C'è l'umanità, ed è così che è stata definita questa legge, prima di tutto una legge morale e di civiltà, così come l'ha definita l'assessore al welfare, Angela Robbe, ma anche lo stesso presidente Oliverio ha evidenziato come, grazie a questa legge, la Regione Calabria fa da apripista appunto verso altre regioni che vogliono in qualche modo condividere questo percorso che è alla fine di qualità e di accessibilità, accessibilità che non è solo ridotta, a rendere contro le barriere architettoniche, ma è un'accessibilità soprattutto di vita quotidiana, di far sentire queste persone con disabilità il più possibile, coinvolgere il più possibile nel mondo sociale e quant'altro, cioè qualità di vita. Grazie Luciana per essere stata con noi, soprattutto grazie per quello che fate. Io ringrazio te per avermi ospitata in questo studio, per avermi dato l'opportunità di ringraziare non solo la Regione Calabria con quest'atto di valore morale molto alto nei confronti delle persone più fragili, ma poi voglio ricordare a tutti che di questa legge non fruiscono solo gli iscritti all'Unione Ciechi, ma tutti i ciechi della Calabria, è rivolta a tutte le persone con difficoltà, con pluri handicap, al di là di una semplice iscrizione ad un'associazione, quindi volevo tranquillizzare anche questo aspetto, perché quando ci sono delle leggi regionali, ma poi l'Unione di suo come ente morale non si è mai fermata a servire ad assistere, a riabilitare, a formare solo gli iscritti, ma lo fa per tutti i ciechi della Calabria. Sì, tra l'altro la legge è passata all'unanimità, quindi non ha neanche avuto colore politico, anzi ha trovato eco in tutti i partiti e consiglieri regionali. Grazie per essere stati con noi.